io per esempio c'è ci sono dei giochi che sono riconosco che sono belli perché Resident Evil la serie Resident Evil è bellissima ma non mi piace il genere fai fai Cindy fai che cazzo è sta roba ma stai scherzando? grazie è che è sbagliata maginal ah no qui devo andare di tartaruga qui devo andare di tartaruga e ho tutti di morte questo è ignorante la parte è cattivissima cassino proprio no ho sbagliato a cagare sarebbe scende ho paura quando mi dice che mi proponi qualcosa ma quale pezzo di merda quando Cindy mi dice l'onda ti propongo un affare ho paura sempre non perché Cindy ma perché donna e quello è il problema no 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 allora guarda famosi siamo a 2 ore 07 arrivo a 2 ore e 30 poi stacco no anche perché è colpa mia che ho iniziato tardi domani dovrei iniziare tipo verso spero verso l'8 di sera ovviamente eh vabbè vabbè no 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 che non hai capito tu ti arrovesciate la lade te le arrovesciate no 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 non sei nel culo a cacare eh salta che sei grasso duro è grasso duro guarda due ti ho detto due e trenta due e trenta stato no a tutto c'è un limite anche nelle suspenus no devo andare prima sotto perché domani no? perché ci sei te? ah sei stronzo ma domani sei ancora con paladins il bonus lo devo fare ma io penso che vabbè oltre ah va giù no io penso che vabbè oltre questo ma ti ho detto paladins l'ho tolto l'ho disinstallato però non so effettivamente potrei provare pensare tranquillamente di faforte tanto non punto a essere dicendo un punto a essere il pro della madonna si fa una cosa comica come adesso si punta a questo anche su fortnite overwatch queste cose qui si ma lo dicevo anche a fox c'è 13 minuti di partita c'è c'è il cauterize al 90% dopo 13 minuti non ha senso beh per come è stato concepito il gioco 13 minuti è raro molto raro che tu oh che cazzo è raro che tu ci arrivi a quel cauterize lì c'è te puoi essere bravo quanto ti pare a giocare puoi essere il puoi essere un pro della madonna ma se te infatti hai uno che non sa giocare quel cauterize quel tipo di cauterize ti mette alla pari di lui che cosa voglio dire che prima se eri abbastanza bravo abbastanza forte dopo cinque minuti avevi già cauterize al 3 è il che potevi cambiare la partita questo senti sempre le gemme dal culo invece ora no no ma cioè non mi interessa il fatto io potrei anche reinstallarlo ma non cambierebbe nulla cioè qualche giorno fa ti porto un esempio veramente cretino sono passate persone dal discord e hanno chiesto come se fosse paladins e io gli ho detto ragazzi io ho 4 mila ore alle spalle non lo scaricate non dovete scaricarlo non merita di essere giocato cos'è sta merda questo è di una cattiveria quindi leva la tua manacce va va il piccione sembra un politico ma non mi ricordo quale il problema più chiaro di paladins è che l'ho sempre detto no è la serietà che è sempre 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 mancata la serietà su paladins è sempre mancata ma non da parte anche della community ok ma soprattutto da portana la miseria il 2 monte nero perso e ti dicevo da capo no da capo da pronto carabinieri manca la serietà proprio da parte di aires settembre sul discord di paladins in questi giorni sono letteralmente non sto scherzando letteralmente esplosi i report per gli cheater letteralmente solo nella giorni siamo due giorni fa solamente due giorni fa hanno fatto qualcosa come solo su discord mi ho 12-13 report quelli che potevano fare perché anche lì i merderets ma anche lì i merderets che cosa ha fatto praticamente ha detto abbiamo migliorato il custom support si il problema è che puoi mandare un ticket di report ogni 6 ore capito contando che hanno filmato dei cheater che io avevo trovato tempo fa ero stato passato per pirla a pangulo si te te ne sbatti però c'è io per esempio lo sto guardando su fortnite su fortnite non è questa cosa qui non funziona così perché fortnite che cosa fa prende se trova un cheater se proprio sono pigri nel massimo un paio d'ore baciano cioè bannano le pace le fanno ogni due settimane se una cosa è troppo p la nerfano per esempio c'era c'è l'evento di spiderman hanno messo i guanti di spiderman che aveva 80 ragnatele la gente è stramentata perché era troppo p da 80 l'hanno nerfato a 20 in due settimane la gente i bimbi merda si sono incazzati perché non potevano più fare gli imbecilli come cosa con spiderman ma la community ha ringraziato epic games questo è un esempio poi ci sono i replay anche lì i replay overwatch c'è i replay sia nelle casual sia negli arcade paradins non ce l'ha i replay non ce l'ha una cosa sbagliatissima perché se te vuoi beccare un cheater lo becchi anche dalla killcam e dalla top play quella lì non ho mai concepito mai mai concepito come è possibile che tu abbia tolto una cosa del genere non l'ho mai capito mortacci le pippo no da capo no ma che ho fatto di male guarda dopo c'è il tempo di completare questo livello qua poi stacco siamo a 2,17 eh ho già detto tutto io mi ricordo che c'erano questi livelli erano stronzi in culo e anzi questo è tranquillo me ne ricordo uno che è da pianti proprio piangevi oh ne bottano i denti no pensavi va 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 e fin qui va bene e fin qui va bene uno due le ora andiamo a tempo il timing no 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 Perché poi non potevo portare i Fortnite? Perché non portavo i Fortnite? Ma il succhiale del merda se è un... Ma va a cagare! Aspetta, che Giampiero richiede la... Eh, perché c'era Giampiero si nascondeva, no no, ti devi esporre. A me fortemente piace, che tu ci crederai o no. Devi fare un salto, uno. Dico solamente che ho pure scioppato un ventino. Per il bundle dei Jinx di League of Legends. Perché c'erano degli screen veramente carini. Come per esempio shoppare anche su Overwatch. Perché Overwatch è un gran gioco. Ora non lo so, eh. Sinceramente c'è di essere ancora un gran gioco. Visto che Microsoft ha... Ha assorbito Blizzard Activision. Microsoft su queste cose è molto padre padrone. Guarda, è bastardo. Ma guarda, Fortnite non attirava neanche a me, eh. Lo dico con tutta onestà. Però a me ha attirato la serietà. La serietà a me ha attirato. Quello sì. Bisogna essere... No! No, no, no! Aspetta, aspetta, aspetta. Con karma. Mamma mia. Ma chi è il... Chi è il malato che ha fatto un livello del genere? Chi è il malato? Chi è il malato che ha fatto un livello del genere? E' il malato che ha fatto un livello del genere? Guarda! Ma scherzi? Salta! No, 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 no. Mamma mia, mi sta andando troppo di culo. Ma se... Ma se... Non c'ho un checkpoint. Non ho un checkpoint. Ma guarda che... Guarda che roba! È vero. Ma comunque non so se te lo... Se lo sai. Hanno messo gratis... PUBG. Player Norbathgrounds. Oddio, c'è il checkpoint lì. Ferma. Ferma, devo prendere quel checkpoint. Oddio. Oddio, Goto, ce l'ho duro. Adesso non sono solo a metà? What? Mi pili per il deretano? Mi pili per le trombe del culo? Ok, qui ci sono quelle di marmo. Vabbè, caccare, vai. Ah, se è stronzo. Piattaforma Simulator. Non so, poi c'è. Oh, capisci. Tania Cagnotto. Tuffi Simulator. No, allora, te mi stai pigliando. Per le mele. Anzi, per i frutti Wubba. Salta! Meno male, c'ho il checkpoint. Allora, non è difficile. Non è difficile. Il timing. Ok. Dio, stava tanto. Ci voleva molto. Dovevo creparci. Tanto era così. No, ok. Due. Ma sbaglio l'ha tirata più avanti. E sono andato a botta sicura perché la tirava più avanti. Allora. Va bene, va bene, va bene. Ho un testa a pera. Va bene. Non mi interessa, brio qui. A chiacchiare, vai. No. E il punto è bastardo. Il punto è bastardo. Ci vuole un... Cioè, devi timerarla a modo ma non vedi le piattaforme. Quindi devi andare a culo. Cosetto culo. Poi ci si mettono anche loro. Ancora nelle gengive. Sì, a questo punto finisco il livello qua. A questo punto lo finisco. E poi me ne posso andare a fanculo. A questo punto finisco il livello. Sono a metà. Io questo non me lo rifaccio, eh. Tipo secondo me sono solamente tipo due piani. Ok, levati di ulo. Vai, vai, vai. Ok. Un testa a pera. What? No! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Tutto per il vecchietto! No! No! Va bene. Qui suoro di parecchio anche. Vai a sapere che c'era un livello del genere. È una minchiata di livello. Perché lo so che è una minchiata di livello. Ma è fatto apposta per farti incrudelire. Per farti sclerare la vita. Allora. Ok. Oh, sì. Una cazzata il timing. Ora, piccione. Sfitto te. È ok. Mele. Piccione. È questo tipo di livello del pochino qui, come on. È un fangulo. È un fangulo. È un fangulo. È un doppio piccione. Che è combo. Non ho il checkpoint. Io qui non ho il checkpoint. Mi auguro che sia questo. Ok. 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 È quasi qui. No. Aspetta. Aspetta. Io questo lo schifo. Io questo lo schifo. Non c'ho voglia di farlo. Veramente. Questo livello fa... No, eh. Oddio, che ansia. Eh, ti va a fangulo le casse, eh. Fammelo finì. Oddio sì. Oddio sì. Oddio sì. Oddio sì. No, follia. Follia. Ehi, fanculo te le asse. Oddio. Questo era bastardo, eh. Questo era bastardo.